Ok, allora riprendiamo su quest'altro argomento, sempre giocando sulle liste, che in qualche modo studia l'interazione tra cosa succede tra le liste e le funzioni, quando le settimane scorse, due settimane fa a questo punto, avevamo parlato di funzioni, del passaggio di parametri, poi abbiamo fatto amicizia con le liste e adesso ci chiediamo cosa succede quando combiniamo queste due cose, quando combiniamo liste e funzioni, nulla di speciale mi verrebbe da dire in sintesi, nel senso che non è un problema il fatto che il parametro di una funzione sia una lista, così come non è un problema il fatto che il valore di ritorno di una funzione sia una lista, i problemi nascono nel momento in cui uno cerca di modificarle queste liste, adesso cercheremo di capire quali sono le trappole a cui dobbiamo fare attenzione. Allora questo è un esempio di una funzione normalissima in cui fa la somma dei quadrati, dei valori di una lista passata come argomento. Quindi sum of the squares, sum of the quadrati, di una lista values che presumibilmente sono una lista di numeri, che è passata come parametro e qui semplicemente fa la somma di un totale, iter su questa lista, il totale fa, diciamo così, incrementa il totale di una quantità pari al quadrato dell'elemento e restituisce il valore del totale. È una funzione normalissima, l'unica particolarità è che il parametro di questa funzione è una lista, può essere una lista, deve essere una lista, perché su questa lista poi andremo a iterare per prendere i singoli elementi, i singoli valori. Cosa succede quando questa funzione viene chiamata? dal punto di vista pratico. Allora, proviamo a vederlo con il nostro Python Tutor, che rispetto a PyCharm ci fa anche capire, vedere dentro alle funzioni che cosa succede. Quindi prendiamo Python Tutor e... Proviamo a scrivere una parte del codice, quindi ingrandiamo un attimo l'immagine. Quindi noi abbiamo questa funzione, provo semplicemente la ricopio, sum of squares di values, che cosa fa? Total uguale a 0, 0, for val in values, total uguale a total più val al quadrato, return total. E se io definissi una variabile numeri, si legge, devo fare un po' più grande, numeri uguale, che ne so, 3, 6, 8, 10, e calcolassi la somma uguale sum square di numeri, mi dovrebbe far vedere che questa somma a un certo punto vale... andiamo avanti... sum asq, scusate... questa somma vale 209, ok? col solito modo strano in cui il Python Tutor ci fa vedere le cose. quindi noi abbiamo questa funzione che per ora non abbiamo ancora guardato, non abbiamo ancora visto dentro, avevamo questa lista numeri che abbiamo costruito, e qui ci fa vedere questa lista di quattro elementi che contiene questi quattro numeri, abbiamo chiamato la funzione, e la funzione ha calcolato, vabbè, questo 209 che sarà presumibilmente 3 al quadrato più 6 al quadrato più 8 al quadrato più 10 al quadrato, ok? ci fidiamo, oppure se non ci fidiamo controlliamolo. qui c'è già fatto tutto, però andiamo a vedere internamente come ha fatto, come ha funzionato, ok? qui andiamo un passo per volta, costruisco numeri e chiamo la funzione. allora, qui avviene il meccanismo di passaggio dei parametri che abbiamo già visto la volta scorsa con le funzioni normali, cioè le funzioni a cui venivano passati dei valori semplici. io quando faccio il prossimo passo, quindi sono qui sulla chiamata della funzione, entro dentro la funzione e viene creato un nuovo ambito, ok? di variabili, che viene inizializzato, in cui i valori dei parametri della funzione, in questo caso abbiamo un parametro che si chiama values, viene inizializzato con una copia del valore dell'argomento passato alla funzione. quindi nel programma principale avevamo una variabile numeri, ok? che abbiamo usato come argomento della funzione, quando entriamo dentro la funzione, dentro la funzione somma dei quadrati, abbiamo il parametro values, che viene inizializzato automaticamente al valore dell'argomento, quindi al valore di numeri. ciò che succede è che questo values diventa, lo vedete, un alias, un sinonimo di numeri, quindi non viene creata una nuova lista, ma vi viene semplicemente ceduto, trasferito il riferimento alla lista esistente. con il che vuol dire che io, volendo questa lista, potrei anche modificarla. Questa funzione non la fa, non la modifica, però lo potrebbe fare. E quindi andiamo avanti, semplicemente qua, fa i calcoli, con questo valore val, vedete che la frecciolina val si sposta via via sui vari elementi, poi punta al 10, fa la somma del 10, e restituirà il valore di ritorno, che è il 209, che poi viene messo dentro somma. Ok? Quindi però il passaggio chiave è questo, quello che abbiamo visto all'inizio, in cui, nel momento in cui viene chiamata la funzione, viene il parametro della funzione, riceve una coppia, un alias, dell'argomento che è stato passato dal chiamante. Quindi in questo momento, questi due nomi, values, che è visibile solo dentro la funzione, e numeri, che era visibile solamente dentro il programma principale, sono la stessa cosa, sono sinonimi per la stessa lista di valori. Qui non abbiamo, se vogliamo, imparato nulla di nuovo, si applica la stessa regola del passaggio di parametri delle funzioni, che abbiamo già visto prima. Con la differenza che adesso, non ho passato solamente un valore, ma ho passato un'intera lista. E questo vuole anche dire, che io questa lista, la potrei modificare. Cioè non c'è nulla, che dall'interno della funzione, perdon, dall'interno della funzione, mi impedisca di modificare il contenuto della lista. Quindi se io, questa lista, volessi non che mi calcolasse la somma dei quadrati, ma che elevasse al quadrato ogni singolo elemento, quindi, la lista dei numeri sono 3, 6, 8, 10. Voglio sostituire il 3 con 3 al quadrato, 6 con 6 al quadrato, 8 con 8 al quadrato e così via. Posso definire un'altra funzione, eleva al quadrato, eleva 2, di values, dentro cui, posso iterare sui valori della lista ricevuta come argomento, quindi for i in range di length di values, values, values di, uguale, values di, alla seconda. Allora, in questo caso, posso chiamare la funzione, eleva al quadrato, di numeri, dopo aver fatto quello di prima, Che cosa sto facendo qua? Sto definendo un'altra funzione, che al suo interno, ha ricevuto una lista come argomento, values, ma al suo interno, questa funzione, modifica i valori della lista. In questo caso, li eleva al quadrato, nell'esempio che c'è nella slide, le moltipiche per un fattore costante, è uguale, l'importante è che, stiamo modificando, stiamo considerando il caso in cui, la funzione, vuole modificare, la lista. Allora, andiamo a vedere che cosa succede, in questo caso, torniamo indietro con l'esecuzione, ok, siamo qua, ok? Quindi abbiamo già calcolato questa somma, chiamando la funzione di prima, e va bene, questo l'abbiamo risolta. Adesso cosa succede, quando chiamo la funzione eleva2. Allora, innanzitutto notiamo che in questo caso, in questa funzione, non ho messo nessuna istruzione return, perché non sto calcolando nessun valore di ritorno. In pratica, questa funzione non calcola un valore di ritorno, ma va a modificare direttamente, il valore che gli è passato come parametro. Proviamo a entrare nella funzione. Ecco, la funzione eleva, chiaramente, nel momento in cui viene chiamata, la frecciolina è qua, crea un suo ambito, che contiene delle variabili, le sue variabili locali, tra cui il parametro della funzione, il parametro values, che viene inizializzato al valore della lista numeri. Abbiamo detto la stessa frase che abbiamo detto prima. A questo punto entro in questo ciclo for, io uguale 0, me l'ho scritto là in fondo, e sono queste istruzioni in cui c'è scritto valius di 0 uguale valius di 0 alla seconda. Quindi valius di 0, parto dal lato destro di questa espressione, valius di 0 è 3, c'è scritto qui, valius di 0 alla seconda sarà 9, e quindi qua, alla destra dell'uguale, in questo momento c'è scritto 9. Sto scrivendo valius di 0 uguale 9. Allora cosa succede? Che valius è un riferimento a questa lista, e quindi vorrà dire che sostituirò in questa posizione 0, al posto del 3 ci metterò un 9. cambio il contenuto di questa cella. Tac. Adesso il 9 me l'ha scritto là sotto. E così via, vado avanti con l'iterazione i uguale 1, e quindi metterò 36 al posto di cosa che c'era prima, 6, e così via. Quindi all'interno della funzione io sto modificando liberamente i contenuti delle singole celle della funzione stessa, della lista stessa. Quindi, una funzione può modificare il contenuto delle liste che vengono passate come parametro. Parlo di liste, nel caso delle stringhe il problema non ce l'avevamo posto perché una stringa non è modificabile, e quindi non poteva succedere. Nel caso delle liste invece sì, può succedere. E quindi alla fine dell'iterazione il programma principale, perché noi stiamo modificando values, ma questo values altro non è che un sinonimo di numeri. E quindi il programma principale quando tornerà si vedrà che numeri è cambiata. Adesso lasciamo perdere le fragioline, mettiamolo più compatto. si vedrà che numeri è cambiato. Quindi, mentre la funzione eleva al quadrato, pensavo di modificare i valori di una lista che si chiama values, in realtà stava anche modificando i valori della lista numeri del programma principale. Stava modificando anche quella perché in realtà erano la stessa lista, erano due nomi diversi di chiamare la stessa lista. Ok? Quindi, per una funzione è normale, è permesso, è normale modificare tranquillamente gli elementi della lista stessa. Ok? E quindi viene modificata la lista originale proveniente dal programma principale. Brando mi chiede se chiamo la lista values anziché numeri va bene lo stesso? Allora, se tu vuoi chiamare questa lista qua del programma principale values anche lei con lo stesso nome di sotto, certo che va bene lo stesso. sono comunque due nomi separati perché uno è nell'ambito globale e l'altro nell'ambito interno della funzione. Sono due variabili diverse, indipendenti, una funzione nel programma principale e l'altra funzione nella funzione e quindi si può tranquillamente, non cambia nulla, però anche se io chiamassi anche se io chiamassi values questa sarebbero comunque sempre due variabili diverse, non importa il nome, quello che importa è il riferimento. Facessi così vedrei che vedete che abbiamo due values, quella del programma principale e quella della sotto funzione eleva al quadrato, ma sono comunque distinti, cioè il fatto che abbiano lo stesso nome e abbiano nomi diversi non inficia minimamente il comportamento del programma. Quel che conta è che due nomi diversi, due variabili diverse, che magari hanno lo stesso nome, ma non importa, due variabili diverse puntano alla stessa, sono sinonimi perché puntano alla stessa lista, alla stessa struttura dati. Ok? Quindi è possibile modificare il contenuto di una lista. Facciamo attenzione che però dobbiamo modificare il contenuto di una lista, ci torniamo tra un secondo. Vabbè, qui fa vedere gli esempi ma noi li abbiamo visti direttamente col Python Tutor. Dunque, Lorenzo mi segna un errore sulla chat e dice che in ogni sette mancano due punti alla fine della riga, sette. con la funzione ci vuole sempre due punti. Analogamente, poi ci torniamo su cosa succede su questo alias, analogamente si può fare lo stesso identico ragionamento anche restituendo una lista, una funzione che mi restituisca una lista nuova. Ok? Quindi ad esempio nel mio codice io potrei creare una funzione che mi restituisca solamente che ne so, i numeri pari di una certa lista passata come parametro. Allora, io potrei costruire una nuova lista qua dentro, pari uguale lista vuota e dentro itero for val in values if val per cento due uguale zero se questo numero è pari per cento due uguale zero allora pari punto append di val e alla fine ritorno pari quindi qui che cosa ho fatto? Ho scritto una funzione che vabbè riceve come parametro la nostra lista di interi costruisce una nuova lista dentro cui ci mette alcuni valori in questo caso i numeri pari ma potrebbe fare qualunque cosa e poi restituisce come valore di ritorno non una variabile ma una una variabile di cui valore a sua volta è una lista e quindi possiamo chiamarla sotto nel nostro programma diciamo chiamiamolo valori pari uguale numeri pari numeri pari di values quindi abbiamo in questo caso numeri pari una funzione che riceve come parametro una lista e restituisce come valore di ritorno un'altra lista come funziona allora innanzitutto vediamo il risultato finale valori pari contiene 36 64 100 cioè mi ha semplicemente segato il 9 proviamo a mettere un altro numero dispari qui in mezzo un 7 così verifichiamo che il quadrato sia un 49 e nella lista di numeri pari non è finito il 49 è stato giustamente cancellato vediamo come funziona internamente quindi torniamo all'inizio della chiamata di questa funzione eccoci qua chiamo la funzione quindi values viene inizializzato come alias del values del programma principale va bene abbiamo chiamato values anziché numeri perché abbiamo prima risposto alla domanda di brando poi creo pari uguale nuova lista creo una nuova variabile pari che è una variabile locale privata della funzione quindi il programma principale non la può vedere faccio il mio lavoretto in cui vado ad aggiungere i vari elementi alla lista è un ciclo in cui vedete che la lista cresce via via che aggiungo gli elementi solamente quelli che sono pari e poi arrivo all'istituzione chiave che è ritorno pari allora questa variabile pari che ho costruito all'interno della funzione viene restituita come valore di ritorno quindi dalla funzione ritorna questa frecciolina questo puntatore qua questo riferimento che punta a questa variabile nuova quindi quella che prima era un valore privato alla funzione perché era raggiungibile solamente dalla variabile pari che era una variabile locale privata della funzione adesso questo valore qui diventa accessibile anche dall'esterno perché viene restituito fuori e infatti il programma principale non farà altro che prendere questa frecciolina qui e memorizzarla dentro valori pari che sarà una nuova lista che comparirà qua nel programma principale quando io faccio questo passo ci accorgiamo che questa lista passerà da qua questa frecciolina passa da qua al programma principale eccolo qua valori pari quindi le variabili interne delle funzioni sono scomparse perché la funzione è ritornata ma il valore di ritorno è stato salvato qua lo vediamo nella riga 24 dentro una variabile del programma principale che punta alla stessa lista che la funzione mi ha costruito sì Mattia sto registrando tranquillo ok quindi anche qua lo stesso meccanismo di passaggio di riferimenti funziona normalmente anche se questa lista viene costruita dentro la funzione e ritornata al chiamante quindi dipende un po' dalle funzioni che stiamo costruendo ci sono alcuni casi in cui può essere utile che la funzione modifichi una lista esistente poi ci sono casi in cui può essere utile che la funzione invece crei una nuova lista e me la restituisca ok e fin qua la parte facile senza sorprese la parte che può riservarci delle sorprese è che cosa succede quando o meglio dobbiamo avere molto chiaro in mente che differenza c'è tra un alias e una copia e soprattutto sotto quali condizioni l'alias rimane vivo questa frase qua non l'ho capita no? e proviamo a capirla con con un esempio allora fatemi magari aprire salvare questo python tutor qua in un file così poi ve lo posso condividere dopo chiamiamolo funzioni list list funzioni così ci rimane salvato perché io adesso provo a cambiare esempio no? e immaginiamo sempre qua dentro python tutor di voler di nuovo creare la funzione che mi restituisce solamente i numeri pari ok? di un certo valore è la stessa che abbiamo fatto prima in cui poi a questo punto diciamo che nel programma principale metterò numeri uguale ci mettono alcuni numeri dentro ricostruisco un programmino molto simile a quello di prima ma più semplice 3 4 7 5 4 di nuovo 2 1 quello che volete e poi calcolerò che pari uguale numeri pari di values no scusate sì ok facciamo così voglio che questa funzione cancelli i numeri pari facciamo così ok quindi una funzione a cui passo questa variabile e voglio che alla fine ci siano solamente il 7 il 3 il 7 e l'1 ok cancello tutti i numeri pari allora cancellare elementi di una lista l'abbiamo già fatto prima l'abbiamo fatto prima e uno dei modi era quello di eliminare i singoli elementi quindi tra i vari modi che abbiamo provato c'erano quelli ad esempio di fare i vari pop successivi dei singoli elementi partendo però ad esempio dal fondo no abbiamo visto che partendo dal fondo non abbiamo dei problemi e quindi potrebbe essere ad esempio provo a scriverlo così for posizione in range che però parte dal fondo l'end di veglius meno 1 e arriva fino a 0 meno 1 meno 1 un range che va al contrario se cancello i numeri pari quindi veglius di pose è un numero pari per 102 uguale 0 due punti veglius di pop veglius punto pop di pose non c'è una parentesi tonda di troppo ok allora cosa ho fatto qua facciamo perdere il range qui c'è meno 1 ricordiamoci perché è escluso il punto di arrivo del range quindi se voglio che la posizione arrivi fino a 0 devo dire che arrivi fino a meno 1 escluso quindi 0 compreso purtroppo quando il range è negativo per farlo fermare a 0 devo indicare come valore limite e un valore ancora decrementato per la solita regola che c'è sempre che il punto di arrivo di un range è sempre escluso quindi se voglio che 0 sia compreso non posso mettere 0 come termine finale questo per rispondere ad Andrea sulla chat questo è un modo e qui vediamo che cancella i numeri se ci entriamo dentro che cosa abbiamo fatto beh abbiamo semplicemente lavorato attraverso questo values e ci abbiamo eliminato questi elementi abbiamo lavorato dentro la funzione così come se avessimo lavorato nel programma principale con la web dei numeri funziona però mi aveva appena spiegato le comprehension ma io allora non posso far prima a costruire a modificare i valori dicendo values uguale faccio una comprehension potrei farla con appende uguale non cambia nulla ci faccio tutti i numeri val for val in values values if if questa cosa qua val per 102 diverso da 0 perché tengo solo quelli negativi tengo solo quelli non divisibili per 2 quindi io potrei scrivere anche questo cioè anziché modificare uno per uno gli elementi col pop facendo il ciclo eccetera dico beh uso una comprehension e faccio quest'operazione qua quest'operazione qua values che calcola effettivamente correttamente se arrivo qua guardate values calcola esattamente l'array giusto ma ha calcolato un array che però è scollegato da numeri e infatti la variabile numeri non è stata modificata cioè cosa è successo torniamo indietro nel programma io creo i numeri e chiamo la funzione in cui cercavo di cancellare questi numeri nel momento in cui chiamo la funzione ovviamente values diventa un sinonimo di numeri ok e quindi attraverso values posso modificare i numeri l'errore che ho fatto è qua all'istruzione 5 dove ho costruito una lista giusta corretta e l'ho segnata a values questo values uguale però non ha fatto ciò che ingenuamente avrei potuto pensare di andare a mettere questi nuovi valori qua dentro ma semplicemente ridefinisce la variabile values che a questo punto punterà a un valore nuovo separato da quello di numeri quindi sto rompendo l'alias in un certo senso facciamo perdere che mi fa vedere all'interno cosa capita nella comprehension e ottengo questo quindi ho creato giustamente il valore giusto ma l'ho associato a values che questo values uguale di fatto cosa fa ridefinisce il valore di questa variabile facendola puntare a un valore nuovo questo è il comportamento normale di python lo sappiamo già della prima settimana quando faccio a uguale 3 sto modificando il valore a cui a punta prima puntavo qualche cos'altro adesso punterà a 3 ma ovviamente non si può portare dietro anche altri sinonimi che puntavano al valore vecchio semplicemente gli altri sinonimi continueranno a puntare al valore vecchio e noi puntiamo al valore nuovo quindi questa operazione qua non ha modificato il valore di partenza ma ha spezzato l'alias non sono più sinonimi valius e numeri e quindi modificando valius non sto più modificando la variabile di partenza ma io ho usato la comprension ma ovviamente non è colpa della comprension se io avessi scritto valius uguale lista vuota e poi avessi fatto valius append qualunque cosa no? esempio dentro il ciclo for avessi fatto l'append dei numeri dispari di nuovo questo valius scompare nel senso che questa istruzione qui non mi sta azzerando la valius vecchia mi sta creando un nuovo valore a cui do lo stesso nome valius e quindi mi perdo la possibilità di accedere al valore vecchio ai valori precedenti ho rotto la sinonimia ho rotto l'alias e quindi ho dimenticato la variabile che mi arrivava se invece facessi per dire solamente un append adesso questo qua non mi serve non è quello che mi serve però io aggiungo un 77 in fondo e questo append funziona cioè io col metodo append vado a modificare la lista torniamo indietro dentro la funzione vado a modificare la lista puntata da valius ma non ridefinisco la variabile valius vado a modificare il valore puntato da valius questa è una finezza che è quella in cui dobbiamo riuscire a non schiantarci la differenza tra ridefinire una variabile facendola puntare a un valore nuovo oppure modificare il valore stesso senza modificare la variabile quando faccio append 77 non sto modificando la variabile sto modificando il valore a cui la variabile valius punta se io scrivessi valius uguale valius più 77 ok anche qua aggiungerei un 77 infatti vedete che dentro la funzione dentro la funzione 77 comparirebbe due volte però questo value su uguale ha fatto sì che questa nuova lista a cui ho aggiunto il 77 sia separata rispetto a quella originale quindi appende va a modificare un valore senza toccare la variabile la concatenazione va a creare un valore nuovo e lo assegna e modifica la variabile che punta a questo nuovo valore per riassumere noi dobbiamo fare attenzione che ci sono alcune operazioni che ridefiniscono la variabile parametro e quindi rompono l'associazione la sinonimia con l'argomento che è stato passato alla funzione e quindi vuol dire che quella funzione non sta più modificando o leggendo il valore del programma principale chiamante ma sta lavorando su una variabile sua locale separata a volte mi fa comodo a volte no perché a volte voglio lavorare su una mia copia dei dati senza sporcare quelli del chiamante e allora dovrò usare delle operazioni che vadano a creare una copia locale in cui lavoro senza sporcare il chiamante a volte invece voglio non sporcare ma modificare la funzione del chiamante allora devo fare attenzione a quelli che sono i metodi o le operazioni che vanno a modificare la variabile e quelle che invece vanno a modificare solo il valore quelle che modificano la variabile rompono l'alias così come abbiamo detto in questi due riquadri ci sono esempi no? e nel primo riquadro quello con la spunta verde sono tutti esempi di operazione che vanno a modificare il valore senza impattare la variabile quindi vedete che qua vediamo quelli sotto prima invece quelli sotto sono quelli che modificano il valore della variabile e sono facili perché molto spesso c'è un uguale modificano il valore di values assegnandoli un nuovo valore poco importa che questo nuovo valore sia derivato dal valore attuale per come lavora python prima calcola il ramo destro e poi modifica la variabile che sta a sinistra nel momento che modifica la variabile che sta a sinistra il vecchio valore è stato perso per sempre quindi l'eventuale sinonimia è stata persa invece nella maggior parte dei casi i metodi append insert pop extend eccetera eccetera tenete presente che extend è la stessa cosa che fa la concatenazione però questo è un metodo della funzione values quindi la variabile values non viene toccata punta sempre alla stessa lista è la lista stessa che si allarga tutti questi metodi sort ad esempio modificano i valori della funzione internamente sorted crea un nuovo valore quindi come tale sono obbligato a rompere l'alias l'unico che ci può indurre un pochino di confusione è questo qui perché c'è un uguale quindi sembra che io stia assegnando un nuovo valore di un nuovo oggetto ma in realtà non sto modificando il valore di values sto solamente modificando il valore dell'elemento iesimo di values quindi quello che in python tutor sarebbe il contenuto del quadratino giallo non la variabile azzurra che è quella che la funzione vede quindi in qualche modo questo specchietto qua ci ricorda fai attenzione che ci sono alcune operazioni che ti permettono di lavorare sulla variabile argomento passata dal chiamante e quindi se vuoi modificarlo puoi ma se fai almeno una di queste operazioni qua sotto quindi essenzialmente riassegni il valore anche senza farci attenzione rompi l'alias e da quel momento in avanti stai lavorando su una variabile nuova e indipendente non è un caso che nessuna di queste funzioni qua esista per le string perché sappiamo che le string sono immutabili quindi l'unico modo di modificare una string è crearne una nuova ok mentre invece sulle liste sono tutti i metodi per mutare una lista senza creare una nuova quindi ogni volta che lavoreremo su una funzione che lavora su delle liste dobbiamo decidere che cosa ci serve se ci serve modificare la funzione di partenza dobbiamo fare molta attenzione a non fare nessuna operazione che ci faccia perdere la corrispondenza con l'alias e quindi usare solamente dei metodi che vanno a mutare all'interno della lista come esempio appunto il pop l'extend e non usare la concatenazione non usare la creazione in questo modo così come non possiamo usare la comprehension eccetera in realtà poi ci sono tutta una serie di trucchi in cui vi ricordate il primo esempio che abbiamo fatto qua con la comprehension non funzionava perché ricreava il nuovo valore però un trucco per farlo funzionare potrebbe essere quello di assegnare non il valore di questa comprehension quindi la lista che ho creato posso averla creata in qualunque altro modo il problema non è il fatto che l'abbia fatta con la comprehension non l'assegno a values ma l'assegno a una slice di values che contiene l'intero l'intero vettore quindi in questo caso sto rimpiazzando gli elementi all'interno di values sto rimpiazzando esatto gli elementi all'interno di values con degli altri elementi poiché sto indicizzando io in realtà non sto anche se li sto cambiando tutti in realtà sto cancellando tutti gli elementi quindi sto praticamente prendendo questa lista values la sto svuotando ma l'ho mantenuta è ancora una lista di lunghezza 0 dentro la quale poi vado a mettere altri elementi ma non ho modificato il valore della variabile ho modificato solamente il contenuto della lista quindi sono trucchetti punti di attenzione che poi chiaramente ci ritorneremo quando faremo gli esercizi ci fermeremo ogni tanto a chiederci attenzione qui siamo sicuri sto perdendo l'alias sto facendo l'operazione giusta come faccio a non perdere l'alias e continuare col valore ok per ora abbiamo cercato di capire il problema e poi ci tornerà chiaramente per le mani più avanti quando faremo gli esercizi ok questo è un diciamo così per ora ve l'ho posto come rompicapo come problematica come fare attenzione non abbiamo aggiunto nulla di nuove conoscenze semplicemente capire un po' meglio come funziona il meccanismo degli alias sulle liste oltre le liste adesso che conosciamo bene le liste prendo solo due parole sulle tuple che in realtà sono una cosa molto semplice le abbiamo già usate per fare scambio di valori per creare delle coppie di valori così al volo che ci servivano come valori di torno dalle funzioni se noi volessimo riassumere in una riga che cos'è una tupla potremmo dire che una tupla si comporta come una lista però è immutabile cioè è la versione immutabile di una lista una lista quindi si comporta una tupla si comporta come una lista quindi posso indicizzare i vari elementi 0, 1, 2, 3 posso ricercarli posso usare l'operatore in posso usare tutte le operazioni che hanno senso sulle liste le posso usare sulle tuple purché non siano operazioni che cercano di modificare la lista perché la tupla non le supporta non essendo modificabile la differenza è che dal punto di vista della sintassi la tupla si crea con gli elementi tra parentesi tonde anziché tra parentesi quadre in realtà le parentesi tonde sono opzionali perché forse come vi ho detto una volta è la virgola che fa la tupla non è la parentesi e quindi il fatto di avere una serie di elementi tra virgola però è spesso è più chiaro secondo me mettere tra parentesi perché ci ricorda anche un pochino il modo in cui nell'annotazione matematica creiamo le coppie o le annuplette di valori quindi per noi chiaramente le tuple come c'è scritto questa nota sono un tipo di dato che fa anche altre cose ma per come le usiamo noi semplicemente immaginiamocelo come se fosse una lista immutabili e quindi cosa posso fare su una tupla beh posso fare tutte le operazioni che potevo già fare su una lista purché non fossero operazioni che tentassero di modificare la lista quindi posso prendere un elemento oppure una slice chiaramente da una tupla posso creare nuove tuple concatenandole attenzione che qui sto facendo tupla finale uguale a tupla 1 più tupla 2 dove queste qui sono definite così non sto modificando né tupla 1 né tupla 2 ne sto creando una nuova e anche se scrivessi tupla 1 uguale tupla 1 più tupla 2 starei creando una tupla nuova che è quella qua sotto che poi assegnerei a tupla finale oppure tupla 1 dove voglio ma queste signorine qua una volta che le ho create rimangono immutabili per sempre così come le stringhe ormai siamo abituati semplicemente anziché una stringhe che contiene solo caratteri la tupla può contenere qualunque cosa così come una lista può contenere qualunque cosa posso iterare posso usare in posso usare note in posso usare index posso usare sorted perché restituisce una nuova lista con gli elementi da tupla ordinati non potrò usare ovviamente sort non potrò usare insert non potrò usare append non potrò usare pop non potrò usare remove perché sono operazioni che cercherebbero di modificare la tupla stessa quindi noi non useremo molto ma quando le incontrassimo non sono un problema si comportano esattamente come le liste con la differenza che non si possono modificare e sono molto comode per trasportare pacchetti di valori o per fare assegnazioni multiple di questo genere in questo caso è particolarmente comodo compattare magari in una riga più assegnazioni l'abbiamo già visto sullo scambio abbiamo visto prima per scambiare due elementi di una lista si possono temporaneamente mettere questi elementi in questa tupla e poi spacchettare diciamo così nel momento in cui faccio l'assegnazione questa è anche qui è una particolarità della sintesi di python che può tornare utile ma concettualmente non ci aggiunge nulla di molto noi abbiamo già visto quando ritornavamo una serie di valori da una singola funzione quindi posso usare una tupla per restituire un valore di ritorno composto da una funzione quindi lo vado poi a spacchettare nel momento in cui chiamo la funzione oppure lo posso usare anche direttamente per assegnare le costanti assegnare i valori lo possiamo vedere diciamo così come una rappresentazione compatta di un insieme di valori ma di questo non ci non ci preoccupiamo più di tanto nel senso che concettualmente non creano i problemi ecco anche per le tuple valgono è possibile definire delle comprension visto che soprattutto in una lista posso creare la lista vuota e poi via via attraverso appendo la faccio crescere una tupla non la posso far crescere quando la creo deve essere già finita deve essere già completa allora a questo scopo proprio avere la sintassi del comprension può far comodo perché creo una tupla con un'unica espressione sapendo che poi a quella non posso poi più aggiungere altri elementi e quindi la sintassi per creare le tuple attraverso il comprension è la stessa sintassi che usiamo per creare le liste la differenza che anziché dentro la parentesi quadre le metterò dentro la funzione tuple non basta la parentesi tonda perché la parentesi tonda si confonderebbe semplicemente con le parentesi tonde che usiamo per fare le precedenze delle espressioni aritmetiche quindi bisogna mettere tuple davanti e in questo caso si può creare una tupla calcolandola a partire da non so da un range da una lista da un'altra tupla o da quello che vogliamo queste altre due cose le comprehension per creare insieme i dizionari le vedremo nell'ultimo capitolo del corso quando vedremo appunto insieme i dizionari ma è per dire questa sintassi vale per tutte le strutture dati native di python ok passerei all'ultimo argomento saltando questi esempi ma noi ne faremo di diversi così vi laverete sia quelli che sono sulle slide sia quelli che facciamo insieme che è quello delle tabelle cioè le liste multidimensionali cioè immaginiamo le liste ce le immaginiamo semplicemente una sequenza lineare di valori quando facciamo la print di una lista ce la stampa in ordine però molte volte ci sono le strutture dati che sono bidimensionali o tridimensionali questo esempio qua è un esempio di medaglie vinte in una competizione sportiva medaglie d'oro medaglie di argento medaglie di bronzo vinte da diversi tipi di nazioni ok allora noi questa cosa qua ce la visualizziamo facilmente come una tabella righe e colonne no una tabella o una matrice o una griglia no possiamo chiamarla in questo modo queste cose poi quando farete il corso di algebra lineare nel secondo semestre sulle matrici vi faranno uscire il cervello dalle orecchie ovviamente perché ne vedrete in tutte le salse ecco dal punto di vista della della programmazione è molto semplice rappresentare o immaginare una struttura dati fatta a matrice perché per noi possiamo immaginare se volessimo immaginatevi voler rappresentare questi numeri questi numeri hanno ciascuno diciamo così una sorta di indice di riga riga 0 riga 1 riga 2 riga 3 riga 4 e una sorta di indice di colonna colonna 0 colonna 1 colonna 2 quindi in qualche modo possiamo estendere abbastanza semplicemente il concetto di lista in cui ho dei valori indicizzati da un indice numerico che parte da 0 e la lista è una struttura unidimensionale possiamo estendere facilmente anche al caso di più dimensioni come? beh creando liste annidate dentro liste questo è il modo di costruire una struttura dati che corrisponde a quel medagliere che c'era sulla slide precedente ho costruito e qui giustamente seguiamo il suggerimento della slide proviamo con python tutor così vediamo cosa stiamo facendo quindi anche qua faccio l'operazione di prima di salvarmi da qualche parte vi abbiamo parlato degli alias e creiamo una pagina vuota qua sul python tutor in cui proviamo a creare una lista di medaglie come una lista i cui elementi corrispondono alle righe della tabella ok? il primo elemento corrisponderà alla prima riga la prima riga della tabella quindi la riga del canada contiene tre valori quindi questi tre valori li posso mettere dentro una lista 0,3,0 lista 0,3,0 quindi cosa sto costruendo sto costruendo una lista che ho chiamato medaglie che al momento contiene un elemento solo questo elemento una riga sola questo elemento a sua volta è una lista che contiene tre medaglie oro, argento e bronzo poi sto costruendo un secondo elemento ok? che era in questo caso se non sbaglio l'Italia 0,0,1 0,0,1 quindi in questo caso sto costruendo una seconda lista 0,0,1 che è indipendente vive per conto suo ma la salvo la memorizzo come secondo elemento della mia lista medaglie è un po' come se costruissi non so se forse vi è più chiaro le medaglie del canada come 0,3,0 è una lista che mi riassume le medaglie del canada così come quelle dell'Italia e posso dire che l'insieme delle medaglie è una lista che contiene prima le medaglie del canada poi le medaglie dell'Italia come seconda riga il risultato è lo stesso chiaramente che è una lista di due elementi il primo elemento è una lista di tre il secondo elemento è una lista di tre e così via io qua ho usato le variabili intermedie semplicemente per far capire che non stiamo facendo nulla di strano stiamo creando un valore in python e stiamo memorizzando quel valore dentro una posizione di una lista che poi questo valore a sua volta sia una lista vabbè non ci sconvolge più di tanto e soprattutto non sconvolge per nulla python che dice vabbè in questa lista ci poteva stare un numero ci poteva stare una stringa perché non ci può stare un'altra lista e infatti si può allora il linguaggio python nativamente non supporta il tipo di dato matrice ma lo possiamo costruire molto facilmente costruendo una lista di liste normalmente questa lista di liste viene costruita come si dice per righe nel senso che è una rista i cui elementi corrispondono alle varie righe della matrice prima riga seconda riga terza riga ciascun elemento di questa adesso rimettiamola qui non è la 030 ma la 001 scusate ma non cambia nulla rimettiamo pure le costanti se vogliamo quindi questa è la prima riga questa è la seconda riga e all'interno di ciascuna riga ci sono delle liste i cui elementi corrispondono alle colonne quindi se io volessi sapere quante medaglie d'argento ho preso l'Italia medaglie argento Italia dovrei prendere il mio medagliere selezionare la riga in cui c'è l'Italia che è la seconda riga e di questa riga prendere il secondo elemento da cui ho scelto male l'esempio perché viene 1-1 perché il primo elemento è l'oro il secondo argento e il terzo è il bronzo se volessi il bronzo medaglie di bronzo dell'Italia prenderei anche qua medaglie di 1 che sono quelle dell'Italia 2 0-1-2 il terzo elemento se sono le medaglie di bronzo dell'Italia che sono 1 ovviamente questo 1 corrisponde a questo 1 qui quindi se mi fermo al primo indice trovo le medaglie dell'Italia medaglie se mi fermo medaglie di 1 che cos'è? medaglie di 1 sarà andiamo a prendere medaglie medaglie è questo è questa lista medaglie di 1 è questo elemento è ciò che viene puntato da questa freccia e quindi è questa piccola lista che corrisponde alla seconda riga della tabella che corrisponde alla medaglie dell'Italia quindi io avendo una lista di liste come struttura dati ciò che posso fare è estrarre una singola riga quindi con un solo indice con un primo indice ottengo una lista che corrisponde ai valori di una riga quando questa lista applico un secondo indice sto andando a indicizzare all'interno di questa lista qui non è una sintesi nuova non è una sintesi particolare semplicemente quello che sto facendo immaginiamo che ci siano delle parentesi tonde qua cioè prendo la lista medaglie ne estrago il secondo elemento ciò che ho estratto qui è a sua volta una lista essendo a sua volta una lista nulla mi vieta di estrarre il suo terzo elemento indicizzandolo con un secondo indice e quindi si costruiscono semplicemente strutture di questo genere e si possono ovviamente poi si devono poi ovviamente lavorare in modo bidimensionale questa è un'altra visualizzazione non ho avuto spendere troppo tempo sul python tutor per farla tutta in cui si vede quale è il risultato finale la rappresentazione finale di quel medagliere come sottoforma di lista di liste quindi in python scriverò una cosa di questo genere scrivo una lista che contiene otto righe ciascuna riga ciascuna riga a sua volta è una lista di tre colonne di tre elementi che corrispondono alle colonne e visivamente ce lo immaginiamo così il medagliere è una variabile che punta a una lista questa lista contiene otto elementi che sarebbero le otto righe ciascuno di questi elementi ha un valore che a sua volta è una lista di tre elementi internamente sono fatte così e vabbè qui ci sono le visualizzazioni che abbiamo già visto allora come facciamo vabbè in questo caso sapevamo già tutti i valori quindi li abbiamo creati all'inizio ok immaginiamo di non saperlo ancora e quindi voler creare questa struttura di dati incrementalmente man mano che arrivano i dati allora creo una tabella vuota e poi ci aggiungo dentro i dati allora come prima cosa qui sto creando la tabella vuota complessiva quindi questa lista esterna è quella che contiene le righe per ora ho una tabella vuota cioè questa tabella contiene zero righe man mano che vado avanti devo costruire le colonne e aggiungere le colonne alla matrice anche qua vediamolo poco per volta ok io posso costruire appunto immaginiamo di dover fare una matrice di n righe di 4 righe e 5 colonne ok vuota con tutti i zeri quindi costruisco matrice n per m righe per colonne n righe e m colonne fatta di zeri ok allora matrice uguale inizializzo una nuova lista dentro questa lista ci dovrò mettere tante righe ok quindi avrò un ciclo for riga in range n aggiungerò la matrice punto add penso per ora ci metto una stringa riga facciamo finta di metterci una riga così poi ovviamente lo devo cambiare perché non ci devo mettere delle stringhe qua dentro non è add scusate mi appende quindi immaginiamoci la lista la matrice che contiene una lista di 4 elementi perché 4 sono le righe e questi 4 elementi dovranno contenere a sua volta la riga 0 la riga 1 la riga 2 la riga 3 ci devo mettere allora però ovviamente non ci devo appendere questa stringa ci devo appendere effettivamente una lista quindi mi dovrò costruire una lista di m perché m sono le colonne numeri quindi a sua volta mi dovrò costruire qua una colonna la colonna chiamiamola col uguale un'altra lista e a questa lista dovrò aggiungere m0 m valori iniziali quindi for no scusate che si andiamo a colonna scusate sto cercando i nomi di variabili per non confondermi troppo col è il numero di colonna e colonna è il contenuto della colonna ok for col in range di m quindi ripeto m volte l'append append di 0 quindi cosa fa colonna colonna contiene 5 zeri è una lista che mi sto costruendo con queste due istruzioni che contiene tutti i zeri adesso magari non dobbiamo mettere 0 magari questo dato qua lo dobbiamo leggere da tastiera lo dobbiamo leggere lo dobbiamo calcolare in qualche modo in modo più semplice facciamolo a 0 e poi ovviamente qui dentro ci metteremo altri tipi di elaborazioni non necessariamente delle costanti e quindi nella mia matrice grande ho creato i valori della prima colonna e li aggiungerò alla matrice quindi attenzione ciclo esterno ciclo sulle righe prendo la prima riga ok lista di 0 nella prima riga cosa ci metto ci metto i valori della prima colonna allora mi devo costruire una lista che contiene i valori della prima colonna alla fine qua devo avere 6 liste quella generale che contiene le righe scusate 5 liste quella che contiene le righe è una e poi una lista per ciascuna delle righe le righe erano 4 quindi sono 4 1 più 4 5 liste in totale ok e in questo caso ho una matrice appunto fatta di di zeri adesso è disegnata strana perché questi elementi qua sì un pochino sono uno sotto l'altro ma non sono bene incolonnati fa lo stesso se noi facessimo una stampa di matrice ci verrebbe stampata così ok lo vedete qua in alto a destra aperta quadra aperta quadra cioè lista generale il primo elemento sono i primi 4 i primi 5 valori corrispondenti alle 5 colonne della prima riga virgola separa la prima riga dalla seconda i 5 valori della seconda riga virgola separa la seconda riga dalla terza e così via ok se noi importiamo la funzione pretty print forse è più bello stamparla con pprint in questo caso me la stampo uguale perché è troppo corta ok altrimenti me la stamperebbe su più righe fa lo stesso pensavo me la stampasse quadrata ma è troppo piccola quindi decide comunque di stamparla in orizzontale ovviamente adesso l'abbiamo visto qua stampata tutta su una riga anche questa sintassi qua che abbiamo visto prima si potrebbe benissimo scrivere tutta su una riga sola qui stiamo solamente andando a capo per ragioni di leggibilità ma al python non interessa per nulla per lui vede un'aperta quadra e per lui è tutto di fila fino alla chiusa quadra corrispondente come se fosse tutto scritto su un'unica riga non sono obbligato in questo caso ad andare a capo serve solo come ordine del codice come l'agibilità ma la vera struttura dei dati è questa qui questa che viene scritta viene stampata così con le parentesi ciò che conta che le parentesi quadre siano annidate l'una dentro l'altra se volessi stampare questa matrice in un modo un pochino più ordinato come potrei stamparla potrei stamparla una riga per volta quindi di nuovo for riga in range di n che è il numero di righe stampo i valori della singola colonna quindi for colonna in range di n stampo il valore print magari il valore di si chiama matrice riga riga colonna col e poi non andiamo a capo ci mettiamo solamente uno spazio come separatore e alla fine della riga andiamo a capo questo sembra un po' i giochini che facevamo stampando gli asterischi guardatele qua come è venuta sembravano i giochini che facevamo stampando gli asterischi semplicemente adesso non stiamo più stampando gli asterischi ma stiamo stampando i valori veri e propri però la ginnastica che abbiamo fatto con questi cicli annidati per andare a capo per stampare ci serve qua ovviamente ci torna utile su questo tipo di strutture dati questo vuol dire che quasi sempre quando dovrò fare un'operazione su una matrice questa operazione dovrà essere quasi sempre inserita in un doppio ciclo perché dovrò iterare sulle righe e una volta che sono su una riga dovrò iterare sulle sue colonne quindi avrò un ciclo interno a quello più esterno di righe può esserci una cosa che mi dà fastidio qua alla riga 16 la riga 16 17 sono questi valori di n e m perché mi danno fastidio perché in questo modo io sono obbligato se voglio iterare su una matrice a sapere già esattamente quante righe ha questo n e anche quante colonne ha questo m allora in questo caso lo so perché l'ho appena scritto l'ho appena costruita ma magari sono dentro una funzione che riceve una matrice e quindi non sa quante righe e quante colonne ha ma è facile ricavare il numero di righe dalla matrice perché ovviamente il numero di righe è il numero di elementi della lista più esterna quindi qui basterà dire len di matrice anziché n non mi serve sapere n lo posso ricavare così come m il numero di colonne altro che non è che la lunghezza della riga che sto per iterare su cui sto per iterare no? e quindi oppure volendo anche della prima riga qui posso mettere matrice di col per dire ad ogni riga che sto considerando matrice non di col di riga scusate ad ogni riga che sto esaminando vado a calcolare quella lunghezza della lista che corrisponde a quella riga e itero sul numero di colonne pari alla lunghezza di quella lista cioè effettivamente il numero di colonne corrispondenti questo lo posso fare sarebbe il modo più pulito altre volte per pigrizia possiamo scrivere direttamente semplicemente matrice di zero andando ogni volta a prendere i numeri della prima numero di colonne della prima riga e se la matrice è fatta bene il numero di colonne della seconda terza quarta riga sarà esattamente identico al numero di colonne della prima riga da lì non si scappa però diciamo così per essere precisi lasciamo riga così siamo sicuri che per ogni riga andiamo a vedere esattamente la sua larghezza dovrebbero essere tutte uguali se no vuol dire che l'abbiamo costruita storta questa matrice ecco facciamo attenzione torno un attimo indietro la creazione della matrice che in ogni riga devo creare una nuova colonna costituita da tutti i zeri voi potreste dire ma guarda che queste tre istruzioni sono sempre uguali perché dentro il ciclo for le fai tante volte falle una volta solo all'inizio mettile fuori dal for mettile qua crea una colonna e poi crei le matrici in cui in ciascuna riga aggiungi tante volte le colonne in realtà guardate cosa è successo non va bene perché se aggiungo più volte lo stesso valore come valore di colonne in realtà sto creando tanti alias alla stessa colonna quindi mi serve proprio lo rimetto dentro il ciclo for mi serve proprio che io dentro il ciclo ogni volta crea una nuova lista e questo uguale aperta quadra è quello che mi conforta sul fatto che sto creando una nuova lista e questa nuova lista conterrà i valori della colonna delle colonne di questa riga specifica che sono indipendenti separate dai valori dalle altre righe non sono difficili queste operazioni qua con le matrici bisogna solo un attimo pensarci non confondersi perché abbiamo questi due indici che vanno avanti l'indice di riga l'indice di colonna che rischiano un pochino di confondersi dobbiamo sempre ricordarci qua visivamente ci fa vedere righe colonne il primo indice è sempre l'indice di riga 3 è l'indice di riga il secondo indice è sempre l'indice di colonna e quindi identifichiamo una volta prima seleziono la riga e poi seleziono la colonna all'interno della riga qui ci fa vedere quando vogliamo stampare esattamente quello che abbiamo fatto prima devo fare un ciclo più esterno sulle righe e un ciclo più interno sulle colonne e poi quando ho l'I e J che sono l'indice di riga e l'indice di colonna io nel mio esempio li ho chiamati riga e col posso andare a prendere la singola cella stamparla a farci l'operazione che ci devo fare quindi quasi sempre devo faticare con questi doppi cicli e quindi mentre sulle liste ho degli elementi ordinati dal primo all'ultimo e sulle matrici ho degli elementi che però sono disposti ce li immaginiamo disposti in uno spazio bidimensionale ci sono molti esercizi ne faremo uno domani in cui data una casella devo trovare le caselle vicine allora ovviamente il numero di righe il numero di colonna della casella vicine se sono sulla riga precedente saranno i meno uno sarà il numero di riga decrementato di uno se sono sulla riga successiva incremento il numero di riga a parità di colonna se invece mi devo spostare sinistra o destra incrementerò o decrementerò il numero di colonna mantenendo fisso mantenendo costante il numero di riga quindi una volta che ho costruito una matrice mi posso muovere o immaginare di muovermi dentro la matrice giocando con il numero di riga e con il numero di colonna e così come quando ho una lista dovevo fare attenzione quando vado a prendere l'elemento precedente come caso particolare a gestire nel caso in cui l'elemento fosse 0 fosse già all'inizio 0 fosse già il primo elemento e quindi non c'è un elemento precedente oppure se ho l'ultimo non c'è un elemento successivo anche nel caso di una matrice quando vado a prendere i vicini di un elemento dovrò fare attenzione di non uscire dalla matrice stessa non c'è nulla di complicato di difficile però bisogna fare molta attenzione a non perdersi quindi bisogna mantenere un certo ordine mentale e cercare di ricordarci bene nei vari passaggi che facciamo ad esempio e poi mi fermo potremmo voler calcolare il numero totale di medaglie vinte dall'Italia allora in questo caso vuol dire che vinte dall'Italia vuol dire che siamo sulla riga 1 ho selezionato una riga fissa decisa e voglio sommare tutti i valori presenti in tutte le colonne di quella riga e quindi faccio una somma per righe di questo genere oppure potete conoscere quante medaglie d'argento in totale sono state date allora in quel caso vorrò fare la somma della seconda colonna di ciascuna riga quindi questa volta la colonna è fissa e invece devo variare le varie righe allora vedete che qua ci sono due frammenti di codice che sembrano identici nel senso che stampano accumulano sempre un totale sommando i conteggi i valori della riga i colonna j riga i colonna j è uguale il valore che stiamo sommando ma cambia quali valori sto considerando nel primo caso la j cioè la colonna varia infatti la j varia e la i rimane costante vedete che in questo ciclo for la i non cambia rimane il valore della nazione che ho scelto mentre invece nel caso di destra abbiamo la j che è una costante non cambia quindi corrisponderà 0, 1, 2 a seconda che ci interessi oro, argento o bronzo ma ciò che varia invece è la i la variabile i e quindi mi fa sommare tutti i valori che su colonna fissa si trovano su tutte le righe possibili quindi prima un po' abituarsi a lavorare non più con un indice ma con due indici abituarsi come? facendo qualche esercizio allora io l'esercizio che ho pensato per domani per fare insieme a voi domani è questo non so se conoscete non so perché non riesco a ingrandire il carattere in questo momento questo visualizzatore non me lo permette ingrandisco lo schermo direttamente oppure facciamo vedere il codice anche se non è così bello ma si legge meglio l'idea che vorrei fare insieme a voi domani è fare un programma che permette di giocare al gioco del cruci puzzle avete presente quello che c'è sulle riviste di animistica molto semplice in cui noi abbiamo una matrice di un certo numero di righe e di colonne e all'interno di ciascuna casella di questa matrice ci sono delle lettere quindi in questo caso abbiamo una matrice di 4 righe per 5 colonne e queste sono delle lettere che ci sono dentro quindi l'utente prima di tutto inserisce il contenuto della griglia una riga per volta vabbè questo è un dettaglio per l'inserimento in una seconda fase l'utente può provare ad inserire delle parole una per volta e il programma dovrà trovare delle parole nella griglia cercandole in tutte le direzioni possibili immaginabili questo è abbastanza contorto come operazione secondo me bisogna spezzarlo in più funzioni per riuscire a non perderci ad esempio se l'utente inserisce la parola lode che porta sempre bene la vediamo esiste perché l o d e quindi partendo qua andando verso la direzione in alto sinistra si trova questa parola ok e quindi il programma mi torna a dire se io inserisco una parola e lui mi torna a dire questa parola c'è oppure non c'è andandola a cercare in tutte le combinazioni possibili domani ci proviamo insieme se qualcuno di voi questa notte non riesce a dormire ci può già cominciare a provare oggi pomeriggio oppure questa notte come dicevo questo delle liste delle matrici non è un tema particolarmente complesso però richiede un pochino di pazienza e di attenzione e non perdersi quindi avere un po' le idee chiare su cosa stiamo facendo facendo qualche esercizio dovremmo riuscire a digerirlo va bene io direi che oggi abbiamo esaurito il tempo a disposizione non so se ci sono delle domande dell'ultimo secondo oppure se non le gestiamo via chat altrimenti io vi saluto e vi rimando domani che sarà nuovamente una lezione online però questa diciamo così è quella normale prevista dall'orario arrivederci a tutti